Ciao a tutti, oggi intendo proprio casual, sciatta, ma devo parlarvi assolutamente di un libro che ho trovato sconvolgente. Avete presente quelle fascette orrende che io le ripudio come la morte, che mettono sui libri e dicono di qualsiasi romanzo questo libro è un'esperienza, questo libro è devastante. Ecco, in questo caso una fascetta del genere sarebbe stata perdonabile perché è veramente un'esperienza leggere questo romanzo che è una novità letteraria e si tratta del ritorno di un grande scrittore, ovvero Ian McEwan con Nel Guscio. È il mio primo approccio con l'autore famosissimo tra l'altro soprattutto per quanto riguarda il romanzo Espiazione ma ne ha scritti veramente tanti di importanti e famosi tra cui Sabato, Cani Neri, Solar, Miele, ne ha scritti tantissimi un autore molto prolifico e amato che ammetto essere stata la mia lacuna che ho voluto colmare proprio con questo romanzo, in verità, perché mi ha subito incuriosito anche solo sentendone parlare. Diciamo che è una sorta di rielaborazione, tra molte virgolette, dell'amleto shakesperiano ma proprio su molti aspetti, anche tematici, per quanto riguarda la tematica della vendetta, la tematica del conflitto tra l'essere appunto e il non essere. Ma di cosa tratta questo romanzo? La cosa più interessante non è assolutamente la trama che tratta appunto di un crimine, di un crimine che nasce da un adulterio ovvero Trudy, una donna che ha una relazione di tipo sessuale, amorosa con lo zio del futuro nascituro di Trudy, perché infatti Trudy è incinta che organizzano, diciamo, l'omicidio, puntano all'uccisione del padre del futuro nascituro che è un insegnante di poesia un poeta, un po' così, un po' inetto sotto certi aspetti. Ma la cosa veramente interessante è sicuramente la scrittura e il punto di vista Il punto di vista è appunto quello del bambino, del feto, nella pancia della madre Noi seguiamo tutta la narrazione attraverso il suo punto di vista ed è una cosa geniale, ma che va ben oltre la semplice sperimentazione o l'esercizio stilistico che è uno dei difetti che è stato ritrovato a questo romanzo per quanto riguarda recensioni di tipo negativo, ovvero il mero esercizio stilistico Secondo me no, proprio nella scelta del punto di vista si cela proprio il significato del romanzo E devo ammettere che dalle prime pagine ho trovato una grande distanza un grande spiazzamento proprio nel leggere questo punto di vista che è un punto di vista anche di linguaggio che non ti aspetteresti da un individuo che non ha ancora conosciuto il mondo in quanto la voce del feto è tutt'altro che ingenua quanto è una voce proprio onnisciente ma non è onnisciente su tutti gli aspetti è come se fosse onnisciente riguardo alle regole della vita e di come il mondo funziona ma non a livello pratico ed è un linguaggio per nulla moderno è molto arcaico ma non troppo ed era anche proprio nell'intenzione dell'autore un linguaggio artefatto soffocante che è come se portasse lo stesso lettore all'interno di un utero e quindi essere soffocato ma allo stesso tempo lo fa sentire per certi versi al sicuro la storia viene raccontata in un modo tremendamente inquietante perché comunque noi seguiamo il punto di vista di un feto che non conosce ancora i suoi genitori ma che ne è legato indissolubilmente prova tanto affetto per la madre nonostante la madre stia per compiere un crimine verso il padre e quindi il neonato sapendo, sentendo attraverso un guscio le dinamiche fuori nel mondo sente anche per certi versi l'esigenza di vendicare il padre ma come può lui vendicarsi se non conosce il mondo e se non è ancora nel mondo l'idea dell'onniscienza nella voce all'inizio appunto spiazzante non convince appieno ma più si procede a leggere più si viene immersi in quello che secondo me è un romanzo straordinario perché lascia intendere come la concezione dell'onniscienza sia da intendere come noi pensiamo avete presente quando che si dice nei film, nei libri quando si muore vedi scorrere la vita tutta davanti e comprendi per un certo senso i significati dell'universo comprendi il senso della tua vita con la morte ecco in questo romanzo è come se la vita fosse una parentesi dove noi dobbiamo andare a ricercare questi significati che non troviamo perché li ritroveremo nell'ignoto che porterà alla morte ma è un ignoto che ci è noto anche prima di nascere è una morte capovolta per certi aspetti è un conflitto tra essere e non essere dove siamo onniscienti al momento della nascita non lo siamo più dobbiamo ricercare i significati a livello pratico e infatti si fa riferimento c'è una frase bellissima nel romanzo che è descritta dal punto di vista del feto che dice io credo nella vita dopo la nascita che è un ribaltamento del credere nella vita dopo la morte e l'ho trovato sconvolgente per certi aspetti oltretutto c'è un modo di intendere la vendetta una società surreale si fa riferimento a come ci si può vendicare in una società laica ed è un po' il leitmotiv del vero e proprio del romanzo questa necessità di comprendere i meccanismi degli impulsi dei sentimenti in una società contemporanea in una società meccanica e non può che avvenire in un modo anche quello ribaltato non più attraverso la violenza e quindi c'è tutto un ribaltamento nella percezione e nella lettura dei simboli che io ho trovato entusiasmante sconvolgente io vi consiglio assolutamente di leggere questo romanzo perché è pavoloso è stata una scoperta magnifica visto che McEwan ha scritto una caterva di libri consigliatemene qualcuno che possa fare al caso mio dopo questo se non avete letto questo invece vi obbligo a leggerlo perché a me è piaciuto davvero tanto cioè mi ha sconvolto è una delle letture più belle che ho fatto quest'anno per ora fatemi sapere cosa ne pensate se l'avete letto o non l'avete letto vi interessa o non vi interessa vi è piaciuto o non vi è piaciuto io vi aspetto al prossimo video un bacione ciao ciao